Il Tribunale di Locri in Calabria ha revocato il divieto di dimora nei confronti dell'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano nell'ambito dell'inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dell'accoglienza dei migranti. È stata accolta all'istanza dei suoi legali. Lucano e la sua Riace erano diventati simbolo di integrazione, solidarietà e accoglienza in contrasto con i porti chiusi dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini ma lui si era dovuto allontanare dalla cittadina multietnica in provincia di Reggio Calabria dopo la decisione del riesame che a ottobre 2018 gli aveva revocato i domiciliari ma imposto il divieto di dimora. Si era rifugiato poco lontano a Marina di Caulonia e non si era mai arreso a veder tramontare il modello Riace. La giustizia farà il soccorso, ha detto Lucano dopo aver appreso la notizia dai legali. La prima cosa che farò è tornare a Riace e quando sarò a casa andrò da mio padre malato oltre ad abbracciare i migranti.